Grazie a tutti. La seguente domanda. Caro Sei Superiore, sei qui? Mie cari guide ed angeli, siete qui? Se siete qui, io do il pieno permesso affinché possiate venire nella mia vita. Caro Sei Superiore, avvicinati, avvicinati, avvicinati a me. Mostrami segni che io riconoscerò che dimostrano la Tua presenza nella mia vita. Cari guide, angeli, avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi a me. Dimostrate che voi siete parte della mia vita in modi che io posso vedere, sentire, ascoltare, visualizzare. Io sono aperto alle miliardi di modalità, di modi nelle quali il mio bellissimo Sei Superiore e le mie bellissime guide e angeli vogliono farmi conoscere la loro presenza. E' sicuro per me ricevere e riaccendere questa bellissima connessione e relazione che io ho con il mio Sei Superiore, con le mie guide, con tutti gli angeli che mi circondano. E adesso ascoltiamo da un'altra bellissima presenza angelica e amorevole che è conosciuta con il nome di Kryon. Vi saluto, miei cari. Sono Kryon, del Servizio Magnetico. Questa è la terza canalizzazione sullo stesso argomento delle due precedenti. Spesso in un mese di canalizzazioni analizziamo una serie di attributi, attitudini, parametri fisici e poi li dividiamo in quattro parti e l'abbiamo fatto di nuovo questo mese. Il motivo per cui lo facciamo è perché questi argomenti di cui parliamo con voi spesso sono un po' complessi e meritano molto più tempo. Quello di oggi sarà un po' diverso dalla maggior parte degli altri perché riguarda quello che sta accadendo sul pianeta e che permette agli esseri umani di pensare al di sopra di quello che abbiano mai pensato prima. Pensate a questo. C'è un nuovo livello di consapevolezza disponibile per voi. Negli ultimi due episodi del mercoledì di guarigione vi ho dato altri due concetti su cosa sarebbe questo elevato livello di consapevolezza e ne ho un altro oggi. Ma vi ho anche detto che non ci sono necessariamente dei livelli o qualcosa di più elevato ed è qui che diventa difficile. Ed ecco perché ci impieghiamo del tempo a spiegarlo. Voi potete cambiare delle cose e non dovete per forza passare ad un altro livello per modificare un parametro esistente. Ma quando si tratta di coscienza e pensiero, la maggior parte di voi pensa che per avere un pensiero al di sopra del vostro modo di pensare debba essere superiore. Quindi voi utilizzate la parola al di sopra. E se non fosse affatto al di sopra? E se invece fosse fuso nella vostra coscienza esistente, in modo che quella che avevate diventi più profonda, è dunque necessario che sia al di sopra? La risposta è no, ma è più facile per me strutturarlo in questo modo dicendo che si trova al di sopra, a un livello superiore. Perché è questo che gli esseri umani vogliono sentire. Siete così tanto immersi in concetti di gerarchia e linearità, che volete sempre andare al prossimo passo, e naturalmente il prossimo passo è sempre sopra. E dunque andiamoci e restiamoci. Questa struttura è per voi. Un livello di pensiero potenziato, di consapevolezza, che noi chiamiamo consapevolezza vivente. Perché la chiamiamo così? Per differenziarla, forse, dalla normale consapevolezza, per identificare quello di cui stiamo parlando, oppure per darvi una struttura. Nessuna di queste cose ha importanza. Vi ho appena detto che il vostro pianeta è in questo cambiamento, e la coscienza in quel pianeta si trova ora vi permette di accedere ad un pensiero multidimensionale che non è mai stato disponibile prima di adesso. E qualcuno dirà, Crayon, ma cos'è accaduto esattamente sul pianeta che permette agli esseri umani di passare ad un livello superiore? E qualcuno potrebbe rispondervi, beh, avete fatto il cambiamento, ce l'avete fatta, e avete deciso questo e quest'altro. Ma non è questa la risposta. La risposta è sì. C'è qualcos'altro, però, e ne parleremo. C'è qualcosa che ha potenziato quello che voi avete, qualcosa di tempestivo, intenzionale, che vi viene dato, perché vi siete spostati nel cambiamento e ne avete bisogno. Questo è importante, proprio come lo erano i due precedenti. È una bellissima consapevolezza superiore del pianeta Gaia. Qualcuno di voi dirà, ecco che Crayon parlerà di nuovo della bellezza della Terra. No, sto parlando della vostra partner, la Terra. Chiedete agli indigeni quanto essa sia importante, perché c'è sempre l'idea che gli indigeni amassero la Terra perché si trovavano sulla Terra e avevano bisogno della pioggia, degli animali, per la loro sussistenza. Ma ora, nella società moderna, le cose sono cambiate. Davvero? Vi dirò una cosa. È tempo di tornare indietro a quello che è già stato conosciuto e studiato, ovvero la vostra consapevolezza superiore di Gaia. Perché ne avete bisogno? Vediamolo. Gaia non è la Terra su cui camminate. Vi rendete conto che tutta l'aria che respirate viene dagli alberi e quello che restituite va agli alberi, i moschi e i licheni e tutto ciò che è nel pianeta. Ogni respiro che fate, state respirando in Gaia. Respirate l'ossigeno che viene prodotto dalle piante. Pensate di essere separati da tutto questo? L'acqua che bevete, da dove proviene? Tutte cose che date per scontate, il raccolto e tutto ciò che mangiate, proviene da Gaia. Queste sono cose di una consapevolezza superiore. E questo è solo la punta dell'iceberg del perché dovreste sempre dare credibilità, amore, consapevolezza, riconoscimento a Gaia. Gaia è il nome, bellissimo nome, dato a Madre Terra. Gaia è un nome, così che possiate avere un nome invece che semplicemente dire la Terra, in modo da riconoscerla. Magari anche come essere senziente. Forse essa vi conosce e voi conoscete lei. Crayon ha detto che quando siete arrivati qui c'è stata una collaborazione. Gaia è stata preparata per gli esseri umani. Senza questa preparazione non ci sarebbero stati esseri umani. Dunque non ha senso che una consapevolezza superiore in generale vi vede dare amore, credibilità e anche gentilezza e compassione a quella che considerate la Terra. E come posso farlo? Molti diranno, benissimo. Vivo in città e lavoro in ufficio. Abito in un grattacielo. Non vedo spesso un prato. Quindi non posso andare ad abbracciare un albero. Oppure non posso togliermi le scarpe e mettere i piedi nell'erba. Il parco è troppo lontano e io ho da fare. Che ne pensate? Beh, sapete una cosa? Questo riguarda molti di voi e lo spirito lo sa. Gaia lo sa. È semplicemente il modo in cui si svolge la vita moderna per voi. Che ve ne pare? Cosa potreste fare? Ecco la risposta. Gaia è sempre connessa. Voi la respirate, la mangiate. Gaia è sempre estremamente connessa con voi e conosce sempre il vostro nome. Gaia, il pianeta, vi ama. C'è una collaborazione molto significativa tra voi e il pianeta. Anche se non è scritta nelle vostre scritture sacre, anche se nessuno ve ne ha mai parlato da bambini, anche se i vostri genitori non ne avevano idea. Ecco perché è un pensiero superiore. Ecco perché è una consapevolezza vivente, qualcosa di diverso, bellissimo, e più grande di quello che vi abbiano mai detto. Prima di alzarvi al mattino, grazie, bellissima terra. Grazie. Ti amo. Oggi potrei non vedere il prato o abbracciare un albero, ma so chi sei e ti ringrazio ogni giorno della mia vita. Grazie, mentre mi alzo stamattina. Potete dare 30 secondi a questo? Io penso di sì. Farà la differenza nella vostra vita? Dovrebbe, se lo intendete davvero. E lo farà, se viene fatto con compassione. Questo è un pensiero di dimensione superiore che va dritto nello spazio multidimensionale dove viene ascoltato e messo in pratica. E la vostra vita inizierà a cambiare. Consapevolezza vivente del pianeta. Io sono Kryon, innamorato di tutti voi. E così è. Grazie. 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 Grazie.